Lo scarico tripla per Manford al segno, altro pallone perso questa volta però può correre Pesaro con Totten, contropiede l'appoggio, altro cambio difensivo, altro pallone che va questa volta dal lato sinistro per la sospensione a segno e poi Tempoli ancora una volta la palla sotto, questa volta arriva l'aiuto. Bluett va a giocare sul blocco di Totten, la palla arriva molto bene in angolo, molto ben gestita. Bochemicius va a effettuare il blocco, ancora un blocco di Bochemicius, la palla che arriva poi sulla linea di fondo per l'appoggio di Bluett. che adesso perde McCollum che va in penetrazione, altra penetrazione con frenata da parte di McCollum che adesso deve ricevere qualche difficoltà, la tripla dall'angolo. Pesaro con McCollum, il blocco di Bochemicius, viene però chiuso in area, la chiusura in area lascia lo spazio per Visconti, coperta corta per Treviso, punito. Visconti, ormai è un veterano! Visconti, ormai è un veterano! Visconti, ormai è un veterano! Adesso la costruzione con Allen, la difficoltà, il tocco di avambraccio di Totè per fermarlo. Il nuovo pallone è gestibile proprio da Totè lo scarico, la tripla dall'angolo. Cambio difensivo, la possibilità proprio per Visconti. La gestione di Bamford con Mazzola a questo lato, Bamford lascia andare. Adesso blocco di Policamp che va poi in roll verso il canestro, tenta la stoppata, non riesce. Lob adesso di Bamford, uno contro uno tentato da Mazzola, Totè alto, bellissimo passaggio. Pesaro con Bamford, Harrison su di lui, lo allontana con un palleggio, un tocco di mano. Pallone perso da Ollis Evicius, Cabone chiede il blocco di Totè che fa un velo, va poi a cercare la posizione in area, riceve. Totè ha anche tre assist, frequentemente servito, in posizione utile, Visconti la linea di fondo, Totè lascia andare il pallone. Tambone, ancora Totè Mazzola, prende, tiro da tre punti. Tambone, McCallum, il blocco di Mocchemicius, si è ricoperto bene da Camarache, però non può. Primo tiro libero segnato da... Buono secondo... Mocchemicius, l'attacco a canestro. McCallum sembra prepararsi a una penetrazione, quello che succede, tiro in sospensione, a centro area. Mocchemicius, lo scarico buono per McCallum, che alza il pallone. Monti, ma c'è il recupero proprio di Mocchemicius, che poi la perde a beneficio di Visconti. Un po' di confusione in campo, Bamford, tripla, piedi per terra, assegno! A buttarne Pesaro, Totè va a effettuare il blocco, gira attorno, Bamford, lo scarico per la tripla! Leonardo Totè... E adesso ha però otto secondi da gestire, a lay-up per la schiacciata! Sette, quattordici secondi adesso per l'azione di Pesaro. Bambone, la finta, la tripla, assegno! La schiacciata! C'è la stoppata di Mazzola! A quel punto la situazione era abbastanza compromessa. Ah, tra lay-up! Questa volta Polica riesce a deviare il tentativo di stoppare!